Ciao Ashley Perez. Mi chiamo Petrilia Sanderson. Va ui. Come hai conosciuto mio nome? Beh, è perché ho riconosciuto facilmente il tuo nome quando ti ho chiamato e ti ho incontrato. Je vois, Petrilia. Qua qu'il en soit, ravi de vous rencontrer. Piacere di conoscere anche te, Ashley Perez. Bene, devo andare subito perché devo fare gli studi e i compiti a casa. Allora, ci vediamo dopo. D'accord, je te verrai plus tard aussi. Parle moi une autre fois. Mi stai seguendo, ragazza? Spero che tu non lo sia. Potresti non seguirmi, per favore? Non voglio che tu mi segua. Ashley, per favore, taglialo subito. Sul serio, levati di mezzo. Mi stai facendo perdere tempo. Ragazza, se continui a spaventarmi, ti metterò sicuramente giù. Quindi, smettila già. Stai iniziando a farmi incazzare minimamente. Sono davvero serio. Ok, allora, Ashley. Portamelo. Oh mon dieu. Nooo. Ne fais pas ça. Je suis tellement sensible. Non seguirmi mai per farmi spaventare e colpirti di nuovo. Losergotismo Losergotismo D.C. Tolpiano